Buonasera, siamo del corso, abbiamo fatto il corso base del massaggio svedese con Diabasi, un gruppo che non ci conoscevamo e ci guardavamo un po' così, poi un gruppo che è diventato bello e come è stata bellissima l'esperienza di imparare una tecnica nuova, anche se faticosa, ma ben spiegata e speriamo ben capita. Grazie a voi.